oh mio dio non ci posso credere ciao mamma fatti guardare ma sei tu è ben hai visto ha messo su qualche chilo e gli brillano di nuovo gli occhi è evidente che sta meglio allora perché nascondi tutto avevamo detto che non ci saremmo ricascati te lo ricordi lo so se solo non fosse natale avrai un giorno domani a quest'ora sarai rientrato in comunità si lascerò neanche un istante chiaro perché per le prossime 24 ore tu sei mio la mia ombra intesi ricevuto e i bers credevo che fossi morto ho messo in pericolo la mia famiglia è tutta colpa tua se non mi occupo della faccenda la prossima volta potrebbe andare peggio ok allora entri lo paghi e torni subito fuori chiuditi dentro stai calma come faccio devi tornare a casa se davvero mi conoscessi avresti chiuso con me io ti conosco no ti conosco no mamma tu non mi conosci apri la porta immediatamente ti ho detto di non credermi tu non mi ascolti ben sto cercando mio figlio c'è qualcosa che non va lo sento devi tornare a casa non senza ben voglio soltanto che troviate mio figlio le cose che ho fatto a me stesso e agli altri non possiamo salvarli ma ti odierai se non ci provi dimmi soltanto figlio mio dov'è che vuoi essere sepulto io non morirò nonostante tutto eccomi sono ancora qui quindi grazie grazie di tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.